Ti racconterò una storia che è nata due anni fa su questo Una zoccolona, Rosigona mi invitò nel suo gruppo musicale Musicale, si doveva ascoltare la musica, parlare di musica, ma che fa? Rosica, ascoltare la mia musica, ma che rosica fa? Ma chi ti conosce? Ma chi sei? Per me non sei nessuno Assunite Federico Salvatore, ma mamma ancora lo dico io con tutto il cuore Te lo dico